L'arterite a cellule giganti è una vasculite granulomatosa delle arterie di grosso e medio calibro. È la vasculite più frequente nei caucasici, diffusa soprattutto nell'Europa settentrionale, con picchi di incidenza fino a 50 casi ogni 100.000 abitanti anno in Scandinavia. In USA viene registrata un'incidenza di 10 a 20 casi ogni 100.000 individui anno sopra i 50 anni. È probabile, tuttavia, che la malattia sia sottodiagnosticata, come suggeriscono alcuni studi autoptici. L'arterite a cellule giganti è invece molto rara in Asia e in Africa. Colpisce soggetti adulti e anziani con picco di insorgenza intorno ai 75 anni, per definizione, l'esordio si verifica dopo i 50 anni, ed è più comune nel sesso femminile. Nel 50% circa dei casi si associa a polimialgia reumatica. Le arterie maggiormente interessate sono Aorta Carotidi e loro rami extracranici, soprattutto temporale, oftalmica e ciliari posteriori. Succlavie Vertebrali Possono essere interessati anche altri rami della orta. Vengono risparmiati i vasi intracranici, probabilmente perché privi, dopo l'ingresso nella dura madre, della ventizia. L'interessamento è tipicamente segmentale. Vengono descritte tre varianti cliniche di arterite a cellule giganti, che possono comunque sovrapporsi. Arterite cranica Aortite sintomatica con impegno delle succlavie o delle ascellari. Sindrome infiammatoria sistemica con arterite. Leziologia è ignota. È stata segnalata una familiarità per la malattia, così come un'associazione con varianti di alcuni alleli HLA e con polimorfismi dei geni del TNF-alfa e dell'interleuchina 18. Tra gli agenti ambientali sono stati chiamati in causa, virus, soprattutto virus varicella zoster e parvovirus B19, ma anche virus parainfluenzale. Chlamydia pneumonie Mycoplasma pneumonie Fumo Farmaci È probabile che un fattore ambientale, soprattutto infettivo, inneschi una reazione infiammatoria TL per 1 e TL per 17 mediata, con produzione di grandi quantità di interferon gamma e attivazione dei macrofagi, con conseguente formazione di cellule giganti multinucleate e granulomi. La reazione sembra avere inizio nella ventizia, in corrispondenza dei vasa vasorum, con l'attivazione delle cellule dendritiche, che richiamano linfociti T e macrofagi e indirizzano la risposta immunitaria in senso TL per 1 e TL per 17. I linfociti TL per 1 migrano a livello della tonaca media e producono grandi quantità di interferon gamma, che attiva i macrofagi e promuove la formazione di cellule giganti multinucleate e granulomi. I macrofagi producono inoltre citochine proinfiammatorie, specie reattive dell'ossigeno, metalloproteasi e fattori di crescita che contribuiscono al danneggiamento della parete vasale, alla proliferazione intimale e alla fibrosi. Un ruolo centrale nella patogenesi dell'arterite a cellule giganti è svolto dall'interleuchina 6, che induce Differenziamento dei linfociti TL per in senso TL per 17 Inibizione dei T regolatori Attivazione di monociti e macrofagi Induzione di un fenotipo proinfiammatorio nelle cellule epiteliali Nel complesso, la proliferazione intimale provoca restringimento progressivo del lume del vaso, con ischemia a valle. Nei vasi di grosso calibro, la distruzione della lamina elastica favorisce la formazione di aneurismi. L'esordio può essere subdolo, nell'arco di settimane o mesi, o brusco. Il quadro clinico è variabile. Nella maggior parte dei casi sono presenti segni e sintomi infiammatori sistemici a specifici, soprattutto febbre. Per quanto riguarda segni e sintomi sistemici, possono essere presenti febbre, generalmente non elevata, l'arterite a cellule giganti e una frequente causa di febbre di origine sconosciuta nell'anziano. Malessere generale Astenia Anoressia Caloponderale Artromialgie La sindrome infiammatoria sistemica con arterite è caratterizzata da anoressia, caloponderale, decadimento generale, cosiddetta «forma cachettica», febbre elevata, sudorazione notturna, anemia severa, cosiddetta «forma anemica». La cefalea è presente nell'80% dei pazienti con arterite a cellule giganti. Il dolore è solitamente, continuo, sordo, talvolta con riacutizzazioni lancinanti, accoltellata. Superficiale Unilaterale o bilaterale Localizzato in sede temporale, occipitale o frontale o diffuso a tutto il cranio Resistente agli analgesici Spesso associato ad ipersensibilità dolorosa nelle stesse sedi o in tutto il cuoio capelluto, rendendo impossibile pettinarsi o appoggiare la testa sul cuscino Il dolore peggiora durante la notte e con l'esposizione al freddo Nel 50% dei soggetti, all'esame obiettivo è possibile palpare una tumefazione monolaterale o bilaterale dolente delle branche frontali o parietali delle arterie temporali superficiali, o più raramente delle arterie occipitali o postauricolari o faciali Le pulsazioni risultano assenti o ridotte La cute sovrastante può essere eritematosa L'infarto dello scalpo è raro Nel 50% dei soggetti con arterite a cellule giganti è presente claudicazio-masticatoria, cioè un dolore dei muscoli masseteri che insorge con la masticazione e che regredisce arrestando il movimento In alcuni casi può essere presente claudicazio alla deglutizione o al movimento della lingua L'infarto della lingua è raro La perdita del visus è una delle complicanze più frequenti e più severe dell'arterite a cellule giganti Senza terapia tempestiva, il deficit visivo diviene permanente entro pochi giorni La perdita del visus è solitamente monolaterale, ma con rapida evoluzione verso la bilateralità in 1-2 settimane Parziale o totale, senza dolore oculare È dovuta nella maggior parte dei casi a neurite ottica ischemica anteriore, per occlusione dell'arteria oftalmica o delle arterie ciliari posteriori Più raramente è dovuta ad occlusione dell'arteria centrale della retina Nel 40% dei casi è preceduta da amaurosi fugax, riduzione transitoria dell'acuità visiva O, più raramente, diplopia, per ischemia dei muscoli oculomotori L'arterite a cellule giganti è fortemente associata con la polimialgia reumatica, presente nel 50% circa dei pazienti affetti La polimialgia reumatica può precedere, seguire o esordire insieme all'arterite Viceversa, il 15-20% dei soggetti con polimialgia reumatica sviluppa arterite a cellule giganti Alcuni autori ritengono arterite a cellule giganti e polimialgia reumatica come i due estremi di uno stesso spettro L'interessamento asintomatico della orta è presente in oltre l'80% dei pazienti, mentre una ortite clinicamente sintomatica è presente in meno del 30% dei casi Possono essere presenti claudicazio agli arti superiori, polso asimmetrico, e valori pressori differenti tra braccio destro e braccio sinistro La dilatazione della orta ascendente può provocare insufficienza ortica Possono svilupparsi aneurismi della orta toracica o, meno frequentemente, della orta addominale La dissezione aortica è rara Possono essere presenti anche altre manifestazioni, tra cui, vertigini, acufeni e ipoacusia neurosensoriale Mononeurite multipla, neuropatia periferica, plessopatia T.A., ictus, demenza, delirium Glossite Faringodinia Tosse secca Cardiopatia ischemica Colite ischemica L'arterite gigantocellulare andrebbe sospettata in tutti i pazienti over 55 con, cefalea di nuova insorgenza Febbre inspiegabile Dolore alla mascella durante la masticazione Dolore in corrispondenza dell'arteria temporale La diagnosi deve essere più precoce possibile La conferma diagnostica richiede la biopsia Gli esami di laboratorio mostrano Aumento della velocità di eritrosedimentazione e della proteina cireattiva Lieve anemia normocitica normocromica delle malattie infiammatorie croniche Piastrinosi Aumento della fosfatasi alcalina L'ecocolor Doppler delle arterie temporali è specifico ma poco sensibile La presenza di un caratteristico alone ipoecogeno a livello della parete, superiore a un millimetro, è diagnostico per arterite a cellule giganti La sua assenza, tuttavia, non esclude la diagnosi Angiotici e angiorrm consentono di studiare la orta e i suoi rami prossimali In particolare l'enhancement a livello dell'arteria temporale dopo somministrazione di mezzo di contrasto sembra un segnale molto specifico La PET con fluoro desossiglucosio mostra spesso una flogosi occulta della orta e dei suoi rami principali La biopsia dell'arteria temporale è considerata ancora il gold standard per la diagnosi di arterite a cellule giganti Dal momento che l'infiammazione vascolare è tipicamente segmentale, per evitare falsi negativi è necessario selezionare la sede della biopsia in base all'esame obiettivo o all'imaging Può rendersi necessario il prelievo di 3-4 cm di arteria Una biopsia bilaterale aumenta la sensibilità dell'esame Un risultato negativo non esclude comunque la diagnosi L'esame istologico mostra tipicamente Infiltrato infiammatorio mononucleato in tutti e tre gli strati Formazione di cellule giganti multinucleate e granulomi nella tonaca media, associata a frammentazione della lamina elastica interna Marcato espessimento della tonaca intima con restringimento concentrico e occlusione del lume Fibrosi della ventizia, nelle fasi avanzate L'assenza di cellule giganti multinucleate e granulomi, tuttavia, non esclude la diagnosi La necrosi fibrinoide è assente Criteri classificativi dell'American College of Reumatology del 1990 Età di esordio superiore a 50 anni Cefalea di recente comparsa Dolorabilità o iposfigmia dell'arteria temporale Velocità di eritrosedimentazione superiore a 50 mm ora Istopatologia compatibile Per la classificazione della malattia come arterite a cellule giganti sono necessari almeno tre criteri Un trattamento tempestivo previene il danno oculare irreversibile Per questo motivo, in presenza di sintomatologia visiva, la terapia deve essere iniziata prima dell'esito della biopsia Il trattamento di scelta prevede corticosteroidi In alcuni casi può essere indicata l'associazione di aspirina a basso dosaggio per ridurre il rischio di complicanze ischemiche La risposta alla terapia è rapida Un mancato miglioramento del quadro nell'arco di alcuni giorni deve far mettere in discussione la diagnosi Nella maggior parte dei casi sono necessari due anni di trattamento Alcuni pazienti richiedono basse dosi di corticosteroidi per diversi anni Per il monitoraggio della terapia vengono misurate velocità di eritrosedimentazione e proteina cireattiva Il dosaggio dell'interleuchina 6 consente una valutazione più accurata dell'attività di malattia ma non è disponibile in tutti i laboratori Durante la terapia con corticosteroidi è fondamentale una corretta prevenzione dell'osteoporosi Per ridurre la dose dei corticosteroidi è possibile ricorrere al tocilizumab anticorpo monoclonale umanizzato diretto contro il recettore dell'interleuchina 6